Grazie a tutti. Due, che sono mandato di queste 1991 banche decidono nei consigli di amministrazione delle maggiori 5 banche che a loro volta controllano il pacchetto di maggioranza delle banche d'Italia, per cui se vogliono fare crescere l'Italia emettono moneta, danno credito, oppure non lo danno e ti fanno restare per 10 anni nella crisi più grave degli ultimi secoli in Italia. Chi sono questi due, scusami? Chi gestisce la Banca d'Italia sono due avvocati che hanno a loro volta la possibilità di decidere per conto di un numero incredibile di piccole banche. Calderone, no Calderone, non è Calderone. Non stanno a capo, non per conto di qualun'altro, stanno proprio a capo. Quindi mi azioniscono con questo. Allora no, questa è la realtà della globalizzazione in questo momento. All'interno ci sono almeno 3-4 fazioni che si stanno scontrando da 10 anni a questa parte, anzi da quasi 20 anni. Allora il discorso è questo, che tutto è basato sulla mistificazione. Per esempio la partita doppia, chi l'ha inventata secondo voi? Bravo. Vediamo se qualcuno lo sa. Un certo Bartolomeo Luca Paccioli. Sì, Paccioli. Ecco, bravo. E qual era? Era anche matematico. Era un delinquente puro. Sì, ma chi era? Era un laico. Chiara l'anno che mi frega. Era un laico forse. Era anche matematico. Era un dizio che andava in giro per le corti dell'era a vendere le sue funzioni. Era amico di... Posso dirlo anche, per esempio, per fare il San Pietro. Ha inventato. Va bene, però... Ha preso. No, non è un dibattito, lo sto spiegando una cosa. Poi dopo... Se gli interrompi io, mi togli del tempo, scusa. Io, purtroppo. Non è stata tutta, io sapevo che era stata tutta. Eh? A lui inventare la partita doppia. La partita doppia? Eh. Secondo te, dove l'ha presa Paccioli? L'ha prelevata da quello che facevano le... E, diciamo, in particolare in Sicilia, le grandi compagnie marinare dell'epoca. Che, per gestire i fondaci, avevano adottato uno schema mentale. Uno schema mentale. Parliamo sempre di schemi mentali, inizialmente. Faccio un esempio. Come vuole un bene che si mette in bilancio una partita doppia, da positivo a diventare negativo. Se io ho un quintale di mele in magazzino, nel fondato, un quintale di mele è qualcosa che prima non esisteva, io ho raccolto, l'ho accumulato e sta lì. Quindi, chiunque si prenda questo quintale di mele è sempre un quintale di mele positivo, non negativo. Non esiste. Non c'è bisogno dell'agica per fare un calcolo di questo genere. È sempre un quintale di mele. Se cambia proprietario, non è che diventa meno un quintale di mele. C'è un quintale di mele. È chiaro il concetto? È giusto? È al proprio angelo, no, ma è il quintale di elementare. Vabbè, sì, scusate, va bene. Vai, il quintale di elementare. Ai fini di scambio, sì. Sì. Capito. Ma la cosa, per esempio, vi hanno detto, c'ho tre o quattro, diciamo, evidenziazioni qua, mi hanno sempre detto, ci hanno sempre detto, che all'interno dell'area è euro, l'area della comunità europea è anche l'area euro. Non è vero. Non è vero perché ci sono su 27 paesi 10 che adottano l'euro, solo l'euro, cioè il 17 che adottano l'euro, solo l'euro, e 10 che invece adottano anche altre monete e anche uno che non adotta l'euro. Vabbè, se non è andato. Eh? Chi è l'esilato? No, no. Non è. L'Igitero. Non è l'Igitero. L'Igitero è un'altra cosa. È sempre stata un'altra cosa, l'Igitero. È difficile. E qual è? Ad esempio, non esiste omogeneità. Non ci può esistere l'euro. C'è una bellissima disamina del professor Giuseppe Guarino che appunto l'ha verificato sotto il profilo legale questa imposizione dell'euro ed è assolutamente falso. Tutto quello che ci hanno raccontato i nostri cari giornalisti, i nostri cari telegiornali nel corso degli ultimi 15 anni. che diciamo niente. No, ma non mi possiamo vedere, controllare. Cioè, qui c'è un elenco. Quindi non lo tengo a loro. Allora, tanto ci sono i paesi fondatori che sono i sei che sappiamo, poi i primi che hanno aderito. Per esempio, c'è l'Igitero, il franco-bega, il franco-landese, ecc. Ma ci sono anche, poi, all'interno dei miei dieci che non aderiscono all'euro, gli accordi europei di cambio, si chiamano AEC e AEC2, secondo. E in questo gruppo di appartenenti al AEC2 c'è la Danimarca, la Grecia, la Svezia, la Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, l'Estonia, l'Ettonia, l'Italia, Colonia, c'è il pubblico, 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 c'è il pubblico. Ungheria, Ungheria, Romania e Coatzia. Quindi questo vuol dire, non è un caso, sono variabili, cioè sono tutti trattati di adesione all'euro, ognuno diverso dall'altro. Allora, per una questione giuridica, i trattati internazionali o vanno tutti allo stesso modo, oppure vuol dire che non è un trattato, ma un'adesione volontaria, è una cosa molto diversa. Non solo è un'adesione volontaria, ma laddove è stato chiesto come a norma di giustizia, ai vari popoli, si è accettato o no, i popoli con il referendum hanno detto tutti no, meno che in Italia dove comandano i gesuiti, dove il referendum non contano, perché comanda soltanto il papacchio. È chiaro. Allora, poi magari ritorno anche su altri argomenti. Rispondo a una domanda del fatto, del perché esiste questa globalizzazione e che cosa, diciamo, perché è stata indotta, perché è stata ideata e per quale motivo può essere, diciamo, un argomento inossidabile, inammovibile, inconfutabile. Allora, questo è un progetto di relazione della Comunità Europea. è una relazione del 2015, che è la 2103 del 2015, relatore, ma di De Boe, che è belga. è un argomento su cui io poi ho fatto un'esamina, ma che dice un progetto parole, a proposito di telematica, informatica, robotica e quant'altro, che fa riflettere a me, affattamente, diciamo, l'ordine del giorno di battere questa proposta di risoluzione e progetto di relazione, perché siamo di fronte a una realtà veramente tragica, se non si trovano degli elementi di risoluzione di questi problemi che si stanno per realizzare. E allora, ecco qua, considerando che l'umanità si trova ora sulla soglia di un'era nella quale con W, bot, androidi e altre manifestazioni di intelligenza artificiale sembrano sul punto di lanciare una nuova rivoluzione industriale e è suscettibile di bloccare tutti gli strati sociali, tendendo imprescindibile che la legislazione ne considera le ultime applicazioni e ci siamo già dentro, perché poi fanno alcuni esempi di richiame di bambini, e considerando che tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17% anno e che nel 2014 è aumentata al 29%, il più considerabile aumento anno mai registrato, che i fornitori di parti motrici e di industria elettrico-elettronica sono i principali produttori della crescita e le richieste di prevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio. È considerato che nel breve e medio termine la robotica e l'intelligenza ufficiale promettono di portare per i visci termini di efficienza e di spazio economico non solo in ambito manifatturiero e commerciale, ma anche in settori quali trasporti, l'assistenza medica, l'educazione e l'agricoltura, ma anche in settori consentendo di evitare di esporre a esseri umani a condizioni pericolose, come nel caso della Polizia e dei sindi contaminati da sostanze tossiche, che nel lungo termine viene con la potenzialità potenziale per una prosperità virtualmente illimitata, e considerando che nel contempo lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale possono portare a far sì che in gran parte del lavoro attualmente troppo degli esseri umani sia svolto da robot, sollevando preoccupazioni in quanto al futuro dell'occupazione e la sostenibilità dei sistemi di provvedenza sociale se l'attuale base fiscale sarà mantenuta e dando potenziale origine a una crescente di circoglianza nella distribuzione della ricchezza del potere. Tralascio tutta un'altra serie che non sto a dire, ma avete capito il taglio della questione, e quindi i principi generali che propone la soluzione. Considerando che fino al momento in cui semmai ciò si verificherà e i operatori di robot riverranno o saranno lesi consapevoli di sé, le leggi di Asimov devono essere considerate come rivolte ai progettisti, ai fabbricanti, agli utilizzatori di robot, dal momento in cui tali leggi non possono essere convertite in codice macchina. Considerando che tuttavia sono necessarie una serie di regole che disciplinino in particolare la responsabilità e l'etica che riflettono i colori intrinsecamente europei e umanistici che caratterizzano il contributo dell'Europa alla società in generale. E poi, tralasciando altro, considerando che è un fortuna, visto che lo stato è raggiunto dal sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, iniziare con le questioni di responsabilità civile e valutare sia il miglior punto di partenza, non sia un approccio basato strettamente sulla responsabilità oggettiva di chi è nella posizione migliore per fornire garanzie. E quindi responsabilità, considerando che, grazie agli strabiliati progressi tecnologici dell'ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente e esclusivamente umane, ma lo sviluppo di caratteristiche autonome e cognitive, ad esempio la capacità di prendere dall'esperienza e di prendere decisioni indipendenti, le ha rese sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo e in tale contesto la questione della responsabilità giuridica derivante dall'azione nociva di un robot diventa essenziale, tra lascio l'altro, e non considerando che più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori, quali i fabbricanti, i proprietari, gli utilizzatori, eccetera, che ciò a sua volta rende insufficiente le regole ordinarie in materia di responsabilità e rende necessarie nuove regole incentrate su come una macchina possa essere considerata parzialmente o letteralmente responsabile per le proprie azioni o omissioni e che di conseguenza diventi sempre più urgente affrontare la questione fondamentale di se i robot devono avere uno stato giuridico. E poi ancora, considerando che in ultima analisi l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche recenti se devono essere considerate come persone fisiche, persone giuridiche, animali o oggetti o se deve essere creata una nuova categoria con caratteristiche specifiche e proprie e implicazioni per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti e doveri, compresa la responsabilità per i danni. E poi, considerando che l'attuale quadro giuridico e i robot non possono essere considerati responsabili proprio per altre omissioni che causano danni attestiche, le norme esistenti in materia di responsabilità coprono i casi di cui la causa di un'azione o di un'ammissione del robot può essere fatta risalire ad uno specifico agente umano. Ad esempio, il fabbricante, il proprietario o l'utilizzatore e tale agente avrebbe potuto prevedere di evitare il comportamento non scivolo del robot e inoltre, i fabbricanti, i proprietari o gli utilizzatori potrebbero essere considerati oggettivamente responsabili per gli atti o le emissioni di un robot se, ad esempio, il robot è stato classificato come un oggetto pericoloso e rientra nell'ambito di norme e responsabilità del prodotto e poi tralascio altro e poi ancora considerando che ci sono palesi le carenze dell'attuale quadro normativo in materia di responsabilità contrattuale dal momento delle macchine progettate per scegliere le loro controparti negoziare termini contrattuali concludere contratti e decidere se e come attuarli rendono inapplicabili le norme tradizionali il che pone in evidenza la necessità di nuove norme più al passo con i tempi tralascio altro e quindi invita la Commissione europea a proporre una definizione europea comune di robot autonomo e intelligente delle loro sub-categorie prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche dei loro robot intelligenti e tralascio fino ad arrivare sottolinea che molte applicazioni robotiche sono ancora in una fase sperimentale accoglie con favore il fatto che sempre più progetti di ricerca sono finanziati con fondi nazionali ed europei invita la Commissione europea e gli stati membri a rafforzare gli strumenti finanziari per i progetti di ricerca nel campo europeo e delle TIC sottolinea che è necessario destinare risorse sufficienti alla ricerca e risoluzione alle sfide sociali ed etiche sollevate dallo sviluppo tecnologico e delle sue applicazioni invita la Commissione europea a promuovere programmi di ricerca che includano un meccanismo per la verifica a breve termine dei risultati al fine di capire quali rischi e opportunità reali siano associati con la diffusione di queste tecnologie invita la Commissione a combinare tutti i suoi sforzi per garantire che per queste tecnologie è una transizione agevole dalla ricerca alla commercializzazione sul mercato principi etici rileva la possibilità di realizzare realizzazioni che derivano dall'uso del robot che sono accompagnati da un insieme di tensioni o rischi per la sicurezza umana la privacy l'integrità la dignità l'autonomia e la proprietà dei dati ritiene che si renda necessario un quadro etico di orientamento per la progettazione e la produzione dell'uso dei robot a integrazione delle raccomandazioni legali della realizzazione dell'acquisizione nazionale e dell'unione esistente unione europea propone in allegato alla presente risoluzione un quadro sotto forma di una cartina di una carta contenente un codice etico deontologico degli ingegneri robotici un codice per i comitati etici di ricerca per il loro lavoro di revisione dei protocolli della robotica modelli di licenza per progettisti e utenti sottolinea che il quadro etico di orientamento dovrebbe essere basato sui principi di beneficenza non maleficenza e autonomia nonché sui principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea quale la dignità umana e il diritto umano l'uguaglianza la giustizia l'equità e la non discriminazione e la non stigmatizzazione l'autonomia e la responsabilità individuale di consenso informale rispetto alla vita privata e la responsabilità sociale e sui metodi e codici etici esistenti tralascio altro per non entrare troppo nel dettaglio ma è chiara la volontà di una serie di funzioni di strumenti e di veicoli che concentricamente tentano di sminuire la figura umana a vantaggio di un'altra specie di aziende che sta per operare più funzionale più efficienza più redditizia meno casinista meno erronea più lavoratrice senza richiesta di di compensi senza sciopoli di sciopoli con richiesta di di vacanze di 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 come si dice di 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 parentali padriarcali padriarcali eccetera di bambini cioè questa genia qua ci toglierà qualunque tipo di lavoro nel giro di dieci anni fra dieci anni duemila e ventotto non ci sarà più merce lavoro per domani perché ci saranno tutta una serie di strutture di di amparati e di robot che saranno molto più funzionali di noi lavoreranno 24 ore al giorno per 365 giorni una volta li hai ammortati e poi vi spiego cos'è l'ammortamento il reddito di cittadinanza è un obbligo la fiscalità ripetuta e corretta in funzione della sottrazione di arricchimento smutato da parte delle multinazionali per tornare in particolare tutto poi è conducibile alle multinazionali finanziarie non è che è qualcosa di vagamente così sospettabile è funzionale alla loro essenza fino a che non si faranno queste cose che chiede una serie di parlamentari europei non è che la chiedo io qua c'è una commissione che ha visto sotto 5 profili più importanti della vita umana che cosa deve fare è legiferare entro breve al più presto già ieri che lo aveva fatto e alcune di queste analisi sono state anticipate hanno preso piede e ci sono le commissioni che stanno cercando di individuare le formulazioni migliori per una nuova etica ma questo deve essere ma non solo da una parte abbiamo quindi la perdita del lavoro dall'altra abbiamo la perdita di qualunque valore perché nel momento in cui non possiamo più produrre non possiamo più produrre ricchezza già ci hanno tolto tutte le possibili fonti di quantificazione del valore no? e in mano a loro cioè sono loro che decidono se il tuo lavoro o la tua persona la tua vita vale qualcosa o meno e fra qualche anno ci sarà ancora meno valore da poter mettere in ballo in gioco sulla bilancia in contrapeso alla ricchezza smodata e il potere finanziario smodato che ci perseguirà a peggio degli schiavi perché qui andiamo di fronte a un cambiamento epocale di schema di riferimento di paradigma non è più prima rivoluzione industriale seconda rivoluzione industriale impari il nuovo lavoro sempre l'uomo lavora no? prima facevi lo spacciacarrozze e il carrozziere puoi fare il meccanico no? o facevi il fabbro ferraio e poi fai il meccanico oggi no oggi prima lavoravi te adesso lavora un strumento da solo non è la stessa non è la stessa non è la stessa ecco l'è no non è loro vogliono arrivare questo ma se lo tolgono dalla testa non se lo tolgono se non c'è qualcuno che si fa capire che non è il cato e quindi stiamo proprio a rispondere perché per ora ci vuole tutto l'insieme dell'intelligenza umana per produrre i robot diciamo per produrre i robot e produrre tutto questo insieme di strumenti di tecnologia che sia in grado di sostituire il lavoro del uomo che questo avvenga in parte e dipende dalla percentuale però che possa venire del tutto non è peggio già ma tra l'assa nel novecento quattro si disse che si lavorava troppo che sarebbero bastate quattro ore quindi prima di tutto c'è da ridurre il tempo di lavoro scrivere umano panorna il rapporto cioè noi stiamo arrivando a questo no ti faccio vedere faccio vedere scusa ricorda allora la benetton scatenate la benetton la benetton nell'82 delocalizzò gli stabilimenti in Cina e c'aveva uno stabilimento adesso non mi ricordo in che regione dove c'aveva 2.000 impiegati 2.000 operai che facevano la filatura dei maglioni quelli che vendono 200 euro ognuno no adesso ho comprato un brevetto la benetton da un'azienda giapponese di cui non mi ricordo più il nome con la quale ha fatto la delocalizzazione in Italia perché questa tecnologia ha permesso alle macchine automatiche di produrre i maglioni senza cucitura prima c'erano 5 pezze le 5 pezze dei maglioni che ha fatto la maglia sa che sono sempre state 5 pezze che è inventato il maglione migliaia di anni fa beh adesso è stato messo a punto un sistema per cui la cucitrice non no no ci sono invece di 2.000 operai e piccinei ci sono 3 tecnici che si fanno i turni su 8 ore per costruire queste macchine è necessario perché si è localizzato il lavoro si è miglionato la qualità del lavoro si è ridotta forse in percentuale però il problema è che alla base di tutto questo concetto fondamentale di cui rimane è che la base di tutto c'è il lavoro è che la base di tutto c'è il lavoro ma manco che niente alla base di tutto non c'è il lavoro io voglio stare 24 ore senza fancare ma è quello che diciamo noi oggi però con la legge attuale internazionale anche con il diritto marittimo o dell'ammiragliato oggi questo non è possibile in nessun paese a voto allora va previsto va esaminato va normato e si deve creare il paradiso in terra ma in queste condizioni siamo attuali cioè l'estensione del genere ma come previsione a breve termine a breve termine guarda per una miriade di ragioni per una miriade di ragioni di cui i motivi più importanti sono questi due che ho voluto accentuare oggi è chiaro che poi i motivi sono infiniti no? perché ci sono infiniti delle infinite delle no? comunque se non c'è la presa di te questo è il defazio e chi è? guarda Asimov nel 52 no guarda tra tutto le quattro leggi le quattro leggi della robotica se andassero veramente in funzione sarebbe il celestiale sarebbe la situazione dell'uomo dall'obbligo del lavoro uno fa l'insegnante che gli piace non perché deve guadagnare il quilo è uscito un libro che l'insegnamento è oramai svalutato completamente perché oramai non ha più importanza l'intelligenza e la conoscenza è stato svalutato l'insegnamento però perché è svalutato la conoscenza se non ci interessa posso dire una cosa che ho avuto come? ma a chi li vengono questi vaglioni che fanno a chi li vengono se li è una persona se non cambia lo scenario bravo hai capito perfettamente uno degli aspetti no hai capito perfettamente uno degli aspetti perché se non c'è riduzione di dinanzia è una riduzione complessiva della normativa internazionale e nazionale su ogni ambito che abbiamo accennato prima c'è il rischio che alla fine c'è un unico padrone cioè un'unica banca finanziaria mondiale un unico produttore sempre della banca finanziaria mondiale e un unico produttore e compratore sempre la stessa banca finanziaria è allucinato ma è chiaro che è un obbligo è una necessità è una necessità indelogabile quella del del regno di cittadinanza perché e se può fare perché basta drenare tassare a morte l'arricchimento esponenziale di queste grandi fonti nazionali e invece no che cosa fanno fino adesso hanno fatto esattamente come con i giochetti del bingo in cui dovevano dare 98 miliardi e hanno fatto tre leggi ad hoc nel corso degli anni per cui adesso hanno pagato 190 mila euro e ci sono i stronzi che ci vanno hai capito? 190 mila euro contro 98 miliardi di tasse in evase dai gestori e lo stesso vale per Amazon vale per Google vale per tutto devo dare 4 miliardi e dico vabbè chiudiamo così facciamo transit chi me l'ha mandato questo ieri voi voi o ti altro 4 roboti intelligenti in Giappone hanno ammazzato 29 scienziati i loro hanno programmato è così perché ma è stato bellone no però lascia stare un po' intelligente adesso stanno in Arizona stanno gestando la Tesla so se lo sai la Tesla l'ha già ammazzato 4 persone ma vabbè però c'è un responsabile c'è qualcuno che mangia l'era qualcuno che paga lì chi è che paga il proprietario l'utilizzatore il meccanico che ti ha fatto la religione si è sbagliato è chiaro secondo me il pericolo sta nella psicologia di questi soggetti che pensa di avere potere il piego no 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 è una questione psicologica cosa fanno dalla loro mentalità infatti hanno ripristinato un'aristocrazia con altri nomi vedendoti come cosa sua è chiaro che avendo un qualcosa no special non hanno ripristinato un'aristocrazia sono sempre loro si è perfetto perfetto cambiano loro sono sempre loro però volevo dire vedendoti come non cambiano nemmeno i cognomini vedendoti come diciamo bestiame non c'è una sensazione un po' blottina bestiame vuol dire che per il momento che tu sempre loro facevano la tratta degli schiavi non è il pericolo è non vedendoti più come utile per il loro lavoro che costituano solo loro mi terranno che tu possa semplicemente essere istinto anche perché sei un grosso problema sei un grosso problema ma quindi è normale questa mentalità distruttiva dobbiamo capire cosa hanno in testa loro l'etica non lo so ma lo sappiamo l'ho letto prima io quindi allora c'è questo io c'è sospetto che si cerchi di mobilitare l'apparecchio loro possono pensare a quello che vuole loro hanno io ho una scuola che mi aiuterà a capire se ho capito c'è anche nella ricerca di normare queste cose c'è quello di leggere a che punto dare responsabilità al robot già questa è follia perché quelle macchine basta non c'è questo e qui che sbaglio perché entro dieci anni diventerà più intelligente di te no ho capito sto parlando per quello ma è sempre anche se non mi ce ne ho costituito con qualcosa a parte se è futuro guarda se tu leggi i libri di Ademov c'è tutta una apologia questo per dire che lui aveva previsto già appunto nel 42 cioè 80 anni fa quello che sta venendo oggi e lì è chiarissima il rapporto fra lui e il robot no ci sono stati anche i vari film negli ultimi anni sempre c'era certo il potere può essere distrutto dalla stessa macchina che quello che è importante è quello che c'è scritto qua cioè noi siamo quelli che hanno il potere il governo della comunità europea dovrebbe avere il potere e dovrebbe avere il potere di normare tutte queste varie facettature della nuova realtà che sono selezionale quindi che la banca faccia il suo sport a gioco a noi non ce ne prega niente siamo noi i portogli ma noi sappiamo come sono stati selezionati come si può generare tutti i messi a prestare ma c'è cosa sta facendo quei vaccini ho capito ma o ragioniamo in questi termini oppure dobbiamo sacrificarsi spontaneamente non c'è bisogno di aspettare che arrivi il momento ci spariamo ovviamente domani e va bene allora è conclusione allora c'è una commissione no e allora gli sta bene c'è il pan allora la situazione economica è lì che siamo arrivati a rinnovare per uscire la sua pranzia se non è troppo da economia abbiamo detto aspetta Rassi dico questa cosa importante abbiamo detto che noi stiamo oramai controllati dalle banche qualunque aspetto della vita sociale e economica è controllata dalle banche adesso con questa fattura elettronica sarà difficile pure fare il nero i lavoratori nero le aziende che fanno il lavoro nero sono sempre più diciamo collegarsi, lasci e legarsi e allora che cosa succede? che noi abbiamo una possibilità però la gente non lo sa ma la cambiare è uno strumento che permette siccome serve a livello internazionale per fare gli interscambi le compensazioni a livello interbancario e frastate eccetera è un titolo è un titolo al portatore a tutti gli effetti è in camera in sé il valore più ancora della banconota in particolare più ancora dell'euro che l'euro non è manco una banconota ma è semplicemente un biglietto è diverso allora il discorso è questo noi possiamo interagire tra di noi senza l'intermediazione della banca noi possiamo scambiarci le cambiali tra di noi con un numero congruo se per esempio gli amici di Scientology riuscissero a integrare in loro il concetto che sto dicendo diciamo così definendo diciamo molto vagamente ma riuscissero a farlo diventare uno strumento utilizzabile anche per i loro aderenti potrebbe essere una modalità di scambio attraverso un certo numero congruo minimo diciamo che di poi dice di transazione no va bene non mi era di transazione tra di noi evitando la strozzatura della banca di Italia che ti dà i soldi se ti piace se ti è messaggio simpatico non te li dà delle banche e potremmo evitare quindi di ricominciare a dare il valore a noi stessi estromettendo immediatamente le banche dalla gestione del potere ma quanti si interessano di queste cose il guaio è quello lì nel libro è spiegato diciamo c'è un altro c'è un terzo libro c'è un terzo libro un volumetto che è in Vadebeck su come utilizzare le regali che però l'ho finito e lo devo ripubblicare e quindi lì c'è spiegato proprio come creare queste diciamo zone di di scambio come ci controlliamo da tutto il controllo c'è un terzo libro c'è un terzo libro c'è un terzo libro perché allora oggi lui ha parlato di moneta legale e di moneta corso forzoso la cambiale è esente da queste leggi ci sono le leggi che sanzionano pesantemente l'emissione di monete o la raccolta del credito attraverso il testo unico bancario definito tutto ma la cambiale ha un atteggiamento ha una diciamo modalità di trattamento completamente diversa proprio perché serve alle stesse banche per scambiarsi come diceva lui facevano quelle casse di compensazione di 10 giorni di 10 giorni o di 10 giorni per fare compie ecco qua invece normalmente le banche usano queste compensazioni attraverso i buoni interbancari che sono delle cambiali delle cambiali garantite la banca ma noi potremmo fare esattamente la stessa cosa senza bisogno della banca è chiaro non c'è questo va beh allora signori grazie di averci collegato la prossima una cinquantina di attrazione guardi io non vedo l'ora che gli ammazzo lei è possiamo uscire certo abbiamo uscire c'è uscire uscire c'è uscire c'è uscire c'è c'è arrivato in me no infatti io sono il numero è un quattro ci ho spiegato da quando sono entrato da questa corte aiutare siete arrivati o no no allora dopo che sono uscire con la con la era numero non è così per la cosa quando non c'era non lo utilizzavamo questo apparecchio qua quando non c'era non lo utilizzavamo capito? noi avevamo il concetto della presenza etica dell'uomo che deve interferire su queste cose noi siamo chiesti del meccanismo ma non significa nulla perché io sono vissuto senza telefono e che metto a me tutti abbiamo tutti abbiamo difenda il massimo ma veramente io stavo a pensare ma mi pare che cose che risponde io sento a pensare ma mi sono ricordi ma mai non lo ricordi non si è non non lei è stata la scuola è una gran donna sì, stanno aspettando e io ti avevo più del tante eh, era buona allora, mi voleva bene era molto è stata il provveditore che è più dura la verità è diventata come la verità la gente sarà venitata ma è un po' lui il Presidente ti ha fatto l'uomo grazie non sai l'uomo non fa l'uomo è un po' è un po' è un po' scelte come essere pregi ma non c'è no, non c'è la dobbiamo fare è lì l'altro libro se è detto di un petto non c'è l'analisi allora, grazie abbiamo fatto quello ci fucivo che per mettermi un'uomo no, non c'è lui l'abbiamo l'abbiamo fatto abbiamo fatto la casa della con con i piedi allora, dipendo che era Presidente Luto è uno che sta a Dicos già quando stava suono lo sai o no? ma è arrivato di distruzione lo fanno anche qui lo fanno tutti lo fanno sarà una Dicos e lo fanno l'uomo e il campionato ma noi abbiamo venato non lo ricordo più no c'è con la memoria gli hanno nominato faceva il di 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 quando io ho chiesto a manca no 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 quando io ho chiesto a manca 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 la posizione della società è certo perché i giorni fanno la prima sono da con me la giornata è un'imiliata faccio un'imiliata ma lo sapete la giornata è la prima non si sa come mette la paura allora e poi lo portano via noi sentite anche qui da quando si è messo non si pregano non si è messo perché giustamente non siamo anche cantano 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 cantarelli 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 ma aspetta no 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 guarda 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 ce la conosce il fiscale ha l'ammazzato è lo vedo tu so ciò che è un padre si alza mattina con l'intento di combattere si ma ci hanno delle regole ferre ma niente però intanto non puoi sgarare e che ti insegniamo io laboratorio laboratorio c'è un buon associante ragazzo diciamo che è più costitivamente nel senso di non può fare non è più scambinata non è più scambinata non è più scambinata è un nome di grazie se c'è un migrante ma perlomeno provo ho capito ho capito ma non è più scambinata ancora faccio guarda ciò che è so che la vuole ma allora quindi no no gli altri che è stato il donario delle E allora non credo ancora che gli intervoggiino. Sì, e ora è l'intervoggio. E ciò sta bene. Non sai che ti dico, le lettere sono le cose che stanno bene. Ma sai che sta succedendo? Ma sai che sta succedendo? Ma sai che sta succedendo? Sì, ma sai che sta succedendo? Sì, ma sai che sta succedendo? Sì, sì, ma questo momento qua. Sì, sì. Stanno filando sempre. Sì, sì. Quindi mi fanno le ultime cose che non possono costruarsi. Giuseppe, non mi ha dato. Eh? A quel punto comincio a sentire quello che dice. Sai perché? Perché c'è l'egoismo. Io ce l'ho, a me che mi frega dei tempi, non ce l'ha a dire. Ma no, 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 no. Si pensa che c'è l'ho in questa prima. Ma quando sono in necessità? Non prende un posto. E mi scatta. Sì, guarda, facciamo anche questo. Ma quando può poter risarmi, è così. Sì, ma io penso anche... Io penso che non c'è l'ultimo, io penso che non c'è l'ultimo. Io faccio una parte di sede, non ti pone il problema, come dice l'Ezio. Però, c'è anche un'altra cosa che non c'è l'ultimo. Anche lì c'è l'ultimo. C'è l'ultimo. C'è l'ultimo. C'è l'ultimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.